Oggi 15 gennaio 2022 ci troviamo a Pinsano al Tagliamento e incontriamo con piacere l'artista e attivista Renzo Bortolussi. Buongiorno. Buongiorno. Allora Renzo, parliamo delle cose più recenti. È apparso su Messaggero Veneto un tuo articolo riferito proprio alla situazione del Tagliamento e in particolar modo alla zona che riguarda la Tisanotta, dalla Tisanotta Sabbionera. Ecco, è un territorio quello laggiù dove il fiume Tagliamento in realtà ha creato diverse difficoltà. Ma perché è stata dichiarata questa inedificabilità e pericolosità idraulica elevata in quella zona? Qual è il tuo parere? Allora, tanto per cominciare, questa pericolosità idraulica nel piano di assetto idrologico che doveva essere inserito nella città di La Tisana, soltanto dopo le nostre insistenze, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in ottobre 2004, tre anni e mezzo in ritardo. Comunque, è logico che sia fatto questo vincolo di inedificabilità che mi fa anche ridere perché non si può chiedere la protezione dalle esondazioni mentre si continua a costruire, ciò vuol dire che il timore di esondazione mi pare che sia ben poco. Quindi abbiamo letto nel venerdì scorso che l'ex vice sindaco di La Tisana, Angelo Barbason, che peraltro mi aveva minacciato di querele due anni fa, questo stesso vice sindaco dice che non si può continuare per tanti anni ad avere questi vincoli di inedificabilità. Quindi delle due, una, o avete paura del tagliamento o non l'avete. Comunque, basta andare lì alla Tisana, ci sono abitazioni a pochi metri dall'argine. Lo stesso municipio non è lontano, siamo ben lontane dai 150 metri previsti dalla legge. Quindi, quando abbiamo letto questo articolo, siamo andati alla Tisana, io con il vice presidente, Guglielmo, e abbiamo fotografato una situazione a del poco scandalosa, dove c'è l'alveo del fiume occupato per circa un terzo da un bosco dal lato di San Michele, mentre dal lato di La Tisana ci sono tanti di quegli alberi che bisogna entrare con la motosega. Quindi tu hai avuto l'occasione e la possibilità di fare queste foto, di testimoniare attraverso delle foto quella che è la situazione attuale e quindi anche poi ti sei concesso il tempo di scrivere all'articolo che è apparso sul messaggero il 7 gennaio 2022. No, ieri è stato pubblicato. Era una lettera del direttore, non è stato pubblicato. La corrispondente mi aveva chiamato per scrivere l'articolo, invece io me lo sono visto pubblicato come lettera del direttore. Se da un lato non mi pare giusto, dall'altro lato mi sa bene perché le lettere vengono pubblicate anche a Pordenone, sull'edizione di Pordenone. Quindi continua, diciamolo pure, l'attivismo di Renzo Bertolussi attraverso anche l'associazione Acqua di Dignano, quindi un impegno costante, assiduo, che dura ormai da decenni proprio per portare avanti queste cause perché, diciamolo, è importantissimo pulire il letto dei fiumi, non creare casse di espansione o dighe o impedimenti che bloccano il corso naturale del fiume. Che poi sono anacronistici. Se noi pensiamo che il fiume Isar, che attraversa Monaco di Baviera, è stato restaurato sul modello del tagliamento e questo lo dicono loro, non lo diciamo noi, è stato restaurato a un costo di 15 anni fa di 30 milioni di euro, noi non possiamo fare il contrario perché una volta tanto ci hanno copiato. Quindi parliamo anche di oltre confine, ma possiamo parlare anche di una bellissima collaborazione che è nata di recente con la regione Veneto e in particolar modo della tua amicizia, possiamo chiamarla così ormai, con la sindaca di Crocetta del Montello. Sì, è con Marianella Tormena, ci siamo sentiti anche ieri, da ottobre stiamo collaborando, io sono andato tre volte sul Piave, due volte come relatore, una volta chiamato dalla stessa sindaca e un'altra volta da un comitato che è dal lato sinistro del Piave, quindi stiamo collaborando, tant'è vero che noi come Acqua abbiamo mandato un esposto alla procura della Corte dei Conti di Venezia e mandandolo anche al Quirinale perché ci dobbiamo ricordare che il Quirinale due anni fa ci ha elogiato per il nostro lavoro sul tagliamento. Quindi abbiamo fatto il primo esposto alla Corte dei Conti dicendo che è inutile progettare casse di espansione se prima non si pulisce il Piave, non si fa la vera manutenzione del Piave. Le casse di espansione sul Piave sono praticamente uguali a quelle che dovevano essere fatte sul tagliamento che avrebbero restretto il fiume causando più danni che non averle fatte perché le golene sono apposta lì i fiumi devono essere lasciati in pace perché le golene servono proprio all'esondazione, a rallentare il deflusso di acqua. Ecco, non è possibile non parlare con Renzo Bortolussi in questo momento di tutta la situazione che stiamo vivendo perché ricordiamo che Renzo Bortolussi oltre ad essere un attivista con l'associazione Acqua è anche un artista. Quindi in questo momento dove viviamo questo momento di pandemia o come molti la stanno chiamando ormai pandemensia, chiediamo proprio a Bortolussi qual è stata la sua ultima opera. Io ho visto delle foto, Renzo, sono riferite a un crocifisso punturato. Esatto, che il povero Cristo che se fosse vivo sarebbe stato inchiodato alla croce con le punture. Un'altra opera recente tua, se vuoi spiegarcela, è anche riferita proprio all'obbligo o alla vaccinazione dei bambini. Non niente di più folle. Ho fatto questa grossa, diciamo, siringa che siringa una dozzina di bambini, maschi e femmine. È la cosa più assurda in assoluto che i bambini vengono punturati perché le difese normali, le loro difese immunitarie, sono, diciamo, che non è giustificata questa cosiddetta vaccinazione che poi vaccinazione non è. non è altro che un modo di mettere un siero sperimentale in bambini e sappiamo che ci sono stati già alcuni morti. Quindi in questo periodo, oltre a parlare di vaccinazione, ci viene naturale anche parlare di questo assurdo obbligo di vaccinazione per lavorare. E in questo momento tutta la nostra solidarietà va ai portuali di Trieste, ma soprattutto a tante persone che a causa di questo obbligo dovranno rimanere a casa dal lavoro senza stipendio. Raccontaci, Renzo, per piacere come è stata la tua impressione quando finalmente hai potuto conoscere il rappresentante dei portuali di Trieste, Stefano Puzzer, e donare a lui il tuo libro. Stefano Puzzer è una carissima persona, una persona che io ritengo pura e ha tutta la mia solidarietà. Il motivo per cui gli ho dato in omaggio il mio libro è proprio per dimostrare che con la tenacia e con il tempo si riesce a vincere. Perfetto, quindi invitiamo tutti gli ascoltatori a riflettere non solo sull'importanza del fiume tagliamento, del territorio, del splendido paesaggio naturalistico che abbiamo qui nelle nostre terre, in Friuli, ma anche in Veneto e oltre confine, a quanto sia importante difendere il territorio e soprattutto valorizzarlo. Basterebbe appunto, come suggerisce a Renzo Bortolussi la necessaria e doverosa manutenzione del letto dei fiumi. Chiudiamo quindi questa intervista ringraziando Renzo Bortolussi, augurandogli buon lavoro e alla prossima. Mandi Renzo. Mandi e grazie a voi. Termina dunque l'intervista a Renzo Bortolussi da Pinsano Tagliamento Oggi 15 gennaio 2022 Sabrina Ciccotti e buon ascolto.